Ciao a tutti e benvenuti a questo video dedicato alla vita personale e al lavoro di Sandro Pertini, una figura iconica della politica italiana del XX secolo. Sandro Pertini è nato il 25 settembre 1896 a Stella San Giovanni, in Liguria, Italia. Cresciuto in una famiglia modesta, si laureò in giurisprudenza e iniziò la sua carriera come avvocato. Durante la prima guerra mondiale, Pertini ha combattuto come soldato volontario e fu decorato con la medaglia d'argento al valore militare per il suo coraggio sul campo di battaglia. Dopo la guerra, Pertini si immerse nella politica e nel sindacato, diventando una voce per i lavoratori italiani. Nel corso della sua carriera politica, ha militato nel Partito Socialista Italiano e ha svolto un ruolo significativo nella lotta contro il fascismo. Il suo impegno per la democrazia e i diritti umani lo ha portato ad essere imprigionato più volte durante il regime fascista. Tuttavia, ciò non lo ha fermato nella sua lotta per la libertà e la giustizia sociale. Uno degli aspetti più interessanti della vita di Pertini è il suo amore per lo sport, in particolare il calcio. Era un tifoso appassionato della squadra della sua città, la Sampdoria, e seguiva con entusiasmo tutte le partite. Inoltre, Pertini era conosciuto per il suo stile semplice e accessibile. Indossava abitualmente un cappello e una giacca, incarnando l'immagine del politico vicino alla gente. Nel 1978, all'età di 82 anni, Sandro Pertini è diventato il settimo presidente della Repubblica Italiana, ricoprendo questo ruolo con dignità e integrità. Durante il suo mandato, ha continuato a difendere i valori di democrazia e solidarietà. Una delle sue curiosità più divertenti è che amava passeggiare per le strade di Roma di notte, senza essere riconosciuto, per rimanere in contatto con la realtà del popolo. Pertini è stato un esempio di impegno civile e altruismo, che ha ispirato intere generazioni di italiani. La sua eredità vive ancora oggi, e la sua memoria è celebrata come simbolo di coraggio e speranza. Grazie per aver guardato questo video sulla vita straordinaria di Sandro Pertini. Non dimenticate di condividere e lasciare un commento qui sotto. Alla prossima! Ciao a tutti e benvenuti a questo video dedicato alla vita personale e al lavoro di Sandro Pertini, una figura iconica della politica italiana del XX secolo. Sandro Pertini è nato il 25 settembre 1896 a Stella San Giovanni, in Liguria, Italia. Cresciuto in una famiglia modesta, si laureò in giurisprudenza e iniziò la sua carriera come avvocato. Durante la prima guerra mondiale, Pertini ha combattuto come soldato volontario e fu decorato con la medaglia d'argento al valor militare per il suo coraggio sul campo di battaglia. Dopo la guerra, Pertini si immerse nella politica e nel sindacato, diventando una voce per i lavoratori italiani. Nel corso della sua carriera politica, ha militato nel Partito Socialista italiano e ha svolto un ruolo significativo nella lotta contro il fascismo. Il suo impegno per la democrazia e i diritti umani lo ha portato ad essere imprigionato più volte durante il regime fascista. Tuttavia, ciò non lo ha fermato nella sua lotta per la libertà e la giustizia sociale. Uno degli aspetti più interessanti della vita di Pertini è il suo amore per lo sport, in particolare il calcio. Era un tifoso appassionato della squadra della sua città, la Sampdoria, e seguiva con entusiasmo tutte le partite. Inoltre, Pertini era conosciuto per il suo stile semplice e accessibile. Indossava abitualmente un cappello e una giacca, incarnando l'immagine del politico vicino alla gente. Nel 1978, all'età di 82 anni, Sandro Pertini è diventato il settimo presidente della Repubblica italiana, ricoprendo questo ruolo con dignità e integrità. Durante il suo mandato, ha continuato a difendere i valori di democrazia e solidarietà. Una delle sue curiosità più divertenti è che amava passeggiare per le strade di Roma di notte, senza essere riconosciuto, per rimanere in contatto con la realtà del popolo. Pertini è stato un esempio di impegno civile e altruismo, che ha ispirato intere generazioni di italiani. La sua eredità vive ancora oggi, e la sua memoria è celebrata come simbolo di coraggio e speranza. Grazie per aver guardato questo video sulla vita straordinaria di Sandro Pertini. Non dimenticate di condividere e lasciare un commento qui sotto. Alla prossima! Grazie! 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 Grazie!